o sono fatto un giro da tenato da dove vengo oggi mi sono preso un giorno ho visto per tempo che poi non c'è l'ho visto che era 15 giorni fa che l'ho incontrata per strada per camminare è che non si muove di più il fine settimana perché il tempo ha fatto sempre schifo bello durante la settimana il sabato domenica è brutto belle da te però io un giletto mo faccio sempre sabato scorso sopprano a vedere se c'era la volta e mo la prossima volta saluta a me Mirella G ci vediamo tanto mo per Pasqua sicuramente ci vediamo ciao 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 ciao